Buongiorno a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. San Michele. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. qui c'è scritto Kat Kornomaglia questa è arrivata Kat Kornomaglia bravissima ecco qua Kat Kornomaglia io vado a seguire là qui c'è la Kat Kornomaglia non c'è la Kat Kornomaglia è che è il cavolo di Kat Kornomaglia è che è il cavolo di Kat Kornomaglia per aspettare così per il che ha attraversato il filo che lo bisogniamo attraversare esagerato, esagerato, esagerato guarda qui ci sono anche le navi che sono andate fatte sui scorsi quella è la nave di la gata no questa è la vera Kornomaglia Kornomaglia e qua bisogna solamente una richiesta oppure di fronte di là abbiamo giusto in giusto il Canada la baia di Montreal vogliamo andare a Montreal? hanno fatto il corner Kornomaglia-Montreal? guardami come chiara l'acqua lo costruiamo noi in quella corda guarda che superzza non è un aereo ma è un aereo un aereo un aereo meno male che questa è il fuoco questo quadro ho ripreso tutto un aereo 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 guarda eh ma guarda guarda che sta finita la cosa qua guarda la Kornomaglia è finita praticamente si rientra? anno prossimo la fine del territorio bisogna rientrare stavola la vacanza è finita un aereo un aereo qui è il nord let's go no un aereo punta di campo corno vada adesso andiamo là adesso andiamo là adesso andiamo là su che non vedi là non vedi più eccolo qua e questo qui è il capo corno vada basta se me ne so poi andiamo là su a Milano anche lo sa un aereo un aereo sono qua eh arrivo 5 minuti 5 minuti 5 minuti capo il tasse guarda io non ci arrivo fin là eh guarda qui dove mi guarda quando siamo arrivati dove sei? ah ci sei quando siamo arrivati sotto la porcia la? si hai fatto quel pettetto la finito basta dai finito ci sono le scale Siamo arrivati, eh? Siamo arrivati, eh? Siamo arrivati, eh? E voglia, arriviamo lassù. Siamo arrivati, guarda. Ci siamo arrivati. Capo, dove sei? Capo? Capo Cornovale. Capo di Cornovale. Capo Cornovale. Capo Cornovale. Capo Cornovale. Nel pacchetto, l'unica macchina che ci rimasta è la nostra macchina. Noi siamo in alto, eh? Questa pacchetta. Poi dove andiamo? Fatti il cuore a su, fatti il cuore a su. Sì. Aspetta un secondo. Poi il cuore a su, fatti il cuore a su. Capo Cornovale. Questa è una pernettetta e in cornovale. Mi coppie. Dove sei? Sì, non si non mi arrabbero bene. Tras Cordova. Cordova. Per un altro gol. Capcomno a l'arrivo, non mi stai lasciando. Ora, entro più. un po' più, dobbiamo andare a finire, ok, bene, ok, sono più innamorata della cornovaccia, non vuoi più sannare a c...